amici del portale del verde buongiorno ben ritrovati guardate dove mi trovo sono qui in compagnia di alberta ballati di pollici rosa e stiamo presentando in questo momento qui vi presentiamo una pianta che si chiama convolvulus si convolvulus cneorum ed è un arbusto giusto è un piccolo arbusto che rimane piuttosto contenuto come vegetazione vedete che bel fogliame argentato che ha questa è la sua caratteristica principale questo bel fogliame glauco che che ha questo portamento un po strisciante per cui immaginatelo in una bella in una bella ciotola nel vostro giardino con queste belle foglie cangianti anche col movimento vedete come cambia il colore queste si riempiono di fiorellini bianchi simili in tutto a quelli del convolvolo che hanno un diametro di 5 6 cm con il cuore leggermente giallo e quindi sono molto molto 5 6 cm sono campanelle come quelle del del convolvolo quello che si vede spontaneo nei nostri prati e che a volte anche un po fastidioso ecco perché si attacca da tutte le parti questo invece non ha non è strisciante e non si avvolge intorno al ai fusti delle piante quindi non è infestante e ha questa caratteristica di fare la fioritura che somiglia in tutto a quella del convolvolo normale primaverile è molto decorativo perché resta resta comunque di questo colore anche in inverno in inverno è meglio dargli un riparo nel senso che teme un pochino quindi è considerato tenerli in vaso sì in alcuni casi viene coltivata anche come annuale in realtà è perenne però se il clima è particolarmente freddo tende a avere qualche problema però nei nostri climi normalmente non non è così così danneggiato dal freddo quindi è una perenne però è una perenne sì sì è una perenne che dimensioni può raggiungere questa pianta non è che abbia dimensioni tanto tanto alte soprattutto perché questi rami tendono a scendere come vedete un pochino si alzano e poi piano piano si adagiano quindi è un po tappezzante è un po tappezzante questa è l'ideale per fare o piccole aiole o grandi ciotole perché ha questa bella fioritura primaverile e questa bella vegetazione che è molto decorativa anche durante l'estate possiamo utilizzarla anche nei rocciati sì possiamo utilizzarla anche nei rocciati sì perché non raggiunge grandi dimensioni e poi soprattutto tende un pochino ad allargarsi e a scendere un po prostrato il colore del fiore c'è solo questo è bianco sì sì non ci sono altre varietà che poi magari più avanti qualche qualcuno inventerà un ibrido a fiore rosa per esempio è bianco ha delle sfumature leggermente rosate è molto bello vederlo spiccare il fiore in mezzo a questa a questa vegetazione così argentata bene allora se vogliamo avere appunto un tocco di colore soprattutto quando c'è del vento che muove appunto queste queste foglie che crea questo questo effetto possiamo mettere nel nostro giardino ripetiamo il nome giusto con volvolus creon grazie a tutti Grazie a tutti.